Ciao ragazzi, allora l'argomento del quale vi voglio parlare oggi l'avete letto nel titolo, cioè che l'efficacia del cane da guardia è l'affidabilità del cane da guardia. Io c'ho qua che mi fa da assistente il mio più maschio, lui ne sa qualcosa di quanto è importante essere efficaci ed affidabili, devono in poche parole andare di pari passo. Allora, guardate, per spiegarvi questo argomento è abbastanza semplice, diciamo, parlarvi di una cosa complessa, perché questo bisticcio di parole? Perché la cosa complessa, adesso mi stanno leccando dappertutto perché le ho dato una crosta di formaggio, buona la crosta, sì, molto buona la crosta di formaggio, sì, tutti e due siete due golosoni. Allora, perché è così facile parlare di un argomento così difficile? Perché guardate, possedere e prima ancora individuare un bucane da guardia è una cosa assolutamente difficile. Ho dedicato molti anni di studi cinofili della mia vita per poter ottenere i risultati di oggi. Crescerli bene, che possano, come dire, poi dare i risultati che noi vogliamo e poi gestirli senza che loro non perdano questo smalto di guardiani è una cosa altrettanto difficile. Ma invece è una cosa molto facile, è il concetto su cani da guardia. Guardate, a volte le persone mi chiamano perché dicono di volare un cane, io non so mai se sia vero o meno e mi fanno delle premesse che durano un quarto d'ora, venti minuti, pensando che io non abbia niente da fare. Mi raccontano da quando avevano il primo cane, eccetera. Molti vogliono farmi, o meglio, convincermi a tutti i costi che loro sono esperti cinofili anche nel settore di cani da guardia. Io la prima cosa che penso sempre, e più loro parlano, più molti parlano, anche persone esperti cinofili in altri settori, e più capisco che i cani da guardia ne capiscono un po' poco. Ecco, ci sono molti che dicono guardi, ho avuto una bellissima esperienza con questi due cani, una sensazionale esperienza con questi altri due cani, io dico, scusa, con tutte queste belle esperienze, con tutta l'esperienza che hai di cani, perché adesso chiami me perché vuoi un cane da guardia. Se hai così tanta esperienza e se tutti i cani che hai avuto fino a questo momento erano eccezionali, non riesco a capire qual è il motivo perché tu stai chiamando me. Io che ho i miei cani, ma non solo i miei pastori dell'Asia Centrale, ma questa tipologia di pastori dell'Asia Centrale, non ci penso neanche, la femmina mi dà delle botte perché vuole ancora una crosta di formaggio, non ci penso neanche di cambiare, mi tengo questi. Questo per dirvi che il discorso sul cane da guardia è molto complesso, ma molto facile da capirne le basi. Se voi avete un cane che vede nella persona estranea, cioè nell'uomo estraneo, un pericolo, voi avrete un cane da guardia. Se lo stesso cane o un altro cane vede nell'essere umano non solo, non un pericolo, ma addirittura un'opportunità di sopravvivenza, voi siete fregati perché la guardia non ve la farà mai. Parlando di quelli che invece vedono nel cane un pericolo, bisogna vedere fino a che livello vedono questo pericolo, perché c'è una specie di diagramma, c'è chi vedono un pericolo più grande, chi vedono un pericolo marginale, i cani che lo vedono insomma un pericolo inizialmente e poi tutto sommato le farebbe quasi comodo diventare amici ed è proprio lì che cambia un po' la qualità del cane a guardia. Ci sono quelli che mi dicono ma il mio cane è un buon guardiano, però se ci sono io non reagisce, lui sta lì in un angolo, posso far entrare chi voglio e molti sono alla ricerca di questo cane. Dico bene perché vede nella persona un pericolo limitato, tanto da dire ok, è un pericolo però se c'è chi ci pensa, io lascio che ci pensi lui, in questo caso siete voi i datori di cibo, i padroni eccetera eccetera, io me ne sto bravo. Ci sono quelli che dicono io il mio cane di giorno non fa una grande guardia ma come scende la notte inizia a diventare un grande guardiano. Io non so quanto diventi grande il guardiano, credo che ci siano dei cani che di giorno dove il livello di diffidenza del cane è inferiore, ma anche la paura di andare incontro a inconvenienti inferiore, perché voi sapete che i predatori escono sempre di notte, cioè tutte le cose anche le maggiori attività legate alla sopravvivenza negli animali avvengono di notte. Di giorno andate nel bosco e non vedete nessuno, se vi andate a fare un giro di notte con la pila vedete migliaia di animali. Io capisco che ci siano dei cani che facciano poca guardia di giorno e la facciano di notte, ma spiegazione facile perché vedono nell'essere umano un pericolo molto limitato, si rendono conto che potrebbe al condizionale essere un pericolo, ma tutto sommato forse questo pericolo non è poi così grande. Qualora invece voi abbiate cani che vedono un marcato pericolo nell'essere umano, questi lo vedono sempre, lo vedono di giorno, di notte, col padrone, anzi col padrone ancora di più, perché vedono anche in rischio il suo datore di cibo, il loro datore di cibo e quindi se voi siete insieme a una persona, o meglio se ci siete anche voi quando c'è l'estraneo, loro si incazzano ancora di più perché vedono veramente tutto il peggio che esiste in questo individuo che non ho mai visto prima. Io ad esempio quando le persone vengono da me magari per vedere un cucciolo, un cucciolone, ritirarlo, eccetera, ciò dei cani appena all'ingresso dell'allevamento, ma più del 50% delle persone della paura che si prendono dei cani che sono chiusi non vogliono oltrepassare il cortile, perché hanno paura che i cani passino dall'altra parte. Ecco c'è grande differenza fra questi cani, quei cani che vanno vu vu vu, più magari si alzano anche i piedi, vanno vu vu, vu vu, ma si vede proprio che sono a ritmi diciamo lenti, che fanno tutta sta scenata ma tutto sommato non morderebbero. Ecco quando i cani non ne vogliono sapere di vedere persone strane all'interno della recinzione, perché li vedono un vero pericolo alla loro sopravvivenza, agiscono in modo completamente diverso. La stessa cosa guardate, capita anche nei cani da guardiania antilupo, ci sono dei cani che vedono il lupo a Baiano, poi man mano che il lupo salvicina si tirano sempre indietro e dicono ok sei un pericolo, però se ti mangi una parte di gregge non è un problema così grande. Ecco quali sono invece i cani che sono disposti anche a farsi ammazzare purché il lupo non si avvicina al gregge? Quelli che dicono no no io intanto se tu mi tocchi il gregge, il gregge è talmente importante per me, tu sei un pericolo talmente alto che io devo cercare a tutti i costi di fermarti a distanza, se no io non potrò sopravvivere, tanto vale che muoia in questo scontro. Ecco questa è un po' la differenza che può esserci fra un cane e l'altro. Questa ha relazione molto con l'efficacia del cane da guardia, perché c'è ancora questa credenza, pensate che c'è ancora la credenza che se io c'è un cane un po' grosso, al muso che fa un po' paura, io posso star tranquillo perché il ladro vedendo il cane non entrerebbe. Ma questo non è nulla di reale. Guardate è un po' come quando voi avete un venditore ambulante che viene e vi dice se volete comprare una borsa. In base alla vostra reazione lui continua ad insistere, continua ancora a provarci o molla subito. Se voi dite no, grazie, sarà la prossima volta, lui dice comprare, comprare, ancora lì e incomincia. Ma se voi gli dite uno secco, ve ne andate, lui non ci riprova. Ecco la stessa cosa fa in poche parole il ladro quando si trova di fronte a una proprietà che quella proprietà le potrebbe anche interessare e vede dei cani. non è che perché ci sono dei cani lui entra, lui assolutissimamente se ha un po' di esperienza vede che tipo di cani ci sono. E se voi avete di quei cani che vedono un piccolo pericolo nell'essere umano estraneo, ecco poi siete poi fra quelli che avevate i cani, i ladri sono entrati lo stesso, allora vi associate a tutte queste persone un po' per affetto eccetera che hanno nei confronti del cane, un po' perché lo giustificano come un figlio, dice chissà cosa l'avrà fatto e di lì che nascono tutte queste leggende che ci sono gli spray, che ci sono questo, che ci sono quello, cosa che non capita mai, ma dico mai, laggiù dove ci sono cani efficaci. Perché anche il lupo se ci pensate bene potrebbe uccidere due o tre cani da guardiania come ridere. Un lupo di quattro anni può far fuori alla velocità della luce a tre cani adulti di tre quattro anni per forti che siano, se vuole se li può pure mangiare e non accade niente. Vuole se il lupo può addirittura aggredire il pastore, ucciderlo e mangiarselo se vuole, quello non è un problema. Però la natura che cosa fa? Crea un equilibrio nel predatore, gli dà anche a lui un altissimo istinto di autoconservazione e gli dice sempre attenzione perché se qui tu per cercare del cibo per la sopravvivenza vai a minare questa tua sopravvivenza non facendo attenzione, procurandoti delle ferite, rischiando troppo, attenzione che questo non è conveniente. Ed è questo il motivo perché i cani da guardiani antilupo se sono un po' come dire un minimo efficaci, hanno un minimo di personalità, il lupo preferisce andare a predare dall'altra parte. Altra cosa se c'è il pastore difficilissimamente il lupo attacca il grege e si può dare quasi per scontato che non attacchi l'uomo. Non perché non lo saprebbe fare o perché non ne avrebbe le capacità. Voi non avete idea un lupo in quanti pochi secondi può attaccare e uccidere un uomo. L'uomo può essere armato di bastone, può essere armato di quel che vuole, non riuscirebbe assolutamente a competere. Questo non avviene perché la natura pensa tutto nel suo equilibrio universale e dà quindi un istinto di autoconservazione molto alto al predatore e quindi permette anche all'uomo di difendersi e permette insomma come dire che tutto trovi a sua volta un suo equilibrio. Qua è la stessa cosa, il ladro vuole rubare oggi, vuole rubare domani, vuole fare questo di professione se non ne avrebbe fatte altre, sa benissimo che se lo prendono va in galera, sa benissimo che può prendersi una fucilata, sa benissimo che ci sono tutta una serie di rischi. Quindi valuta il rischio, se il rischio è basso lui entra lo stesso, se il rischio è alto sta fuori, ma il rischio è alto quando un cane ha un istinto che vede nell'essere umano estraneo un grandissimo pericolo. Quando vede nell'essere umano in generale un grandissimo pericolo lo vede potenzialmente in tutti gli esseri umani, anche noi, perché noi cosa cambiamo dall'essere umano estraneo? Semplicemente che lui è vissuto con noi, ci conosce un po' di più e gli abbiamo sempre dato da mangiare. Però attenzione, che se dandoli da mangiare non ci siamo comportati in un certo modo, non li abbiamo allevati in un certo mondo con determinate regole, non li abbiamo fatto capire, che dobbiamo spiegarglielo noi, che noi siamo molto diversi da quegli altri esseri umani nei quali lui vede un grave pericolo, che lui può stare tranquillo, può pensare che tutti gli altri esseri umani sono un grande pericolo, ma si deve convincere che noi non siamo per niente un pericolo. Ecco, prima o poi, magari non il primo anno, secondo anno, con qualcosa che noi faremo volutamente o involontariamente, ecco che può scattarci l'aggressione perché lui vede anche in noi questo pericolo. Perché se il cane, nell'essere umano in generale, non vede un pericolo, che noi siamo i padroni, che siamo gli esseri umani estranei, che siamo chi vogliamo, problemi non ce ne sono. Lui vede nell'essere umano solo e sempre un'opportunità per sopravvivere. Quindi ci concede un po' di tutto, ma laggiù dove lui, nell'essere umano in generale, vede un pericolo per la sua sopravvivenza, siamo noi che gli dobbiamo far capire nella crescita che noi non siamo un pericolo per la sua sopravvivenza. E non basta dargli il cibo, perché il cibo è quello di cui lui ha bisogno. Ma lui per sopravvivere ha bisogno di avere assolutamente fiducia di noi, perché lui non si può allontanare, lui non può migrare come vorrebbe la natura, lui non può andarsene nel momento in cui pensa che noi, in quell'ambiente, non siamo così favorevoli alla sua sopravvivenza. Quindi ecco perché l'efficacia del cane, ma ve lo spiegherò poi ancora in filmati successivi, deve andare a pari passo dell'affidabilità. Molti non hanno il problema dell'affidabilità, se ne sbattono il cazzo dei miei corsi, non vengono nei corsi diretti, né a quelli che non acquistano i videocorsi, niente, sento e dico ah sì sì, ah sì sì, ma lo capisco perché non avete cani da guardia, ma nel momento in cui voi ambirete ad avere cani da guardia, il vero cani da guardia è quello che vede un grave pericolo per la sua sopravvivenza nell'essere umano. Voi avete bisogno, se volete un cane affidabile, di convincere che voi siete molto diversi dall'essere umano estraneo, siete un altro tipo di essere umano, ma questo non lo ottenete solo perché gli date da mangiare e tantomeno, come vi ho già spiegato altre volte, vivere di illusione che il cane vi ama e che capisca che voi li volete bene, di conseguenza vi vorrà anche bene, va bene, quello funziona per i cani da compagnia, delle signore che magari sono state vedove, che non hanno mai avuto un marito, quelli sono obbligati a innamorarsi del cane, vogliono che il cane li ama, ma lì sono problemi esistenziali che vanno oltre, vengono morsicate anche loro, io ne seguo parecchie, in continuo visto che mi occupo di aggressioni, ma voi che avete il cane alla guardia, che vi deve proteggere voi e la vostra famiglia, è importantissimo che gli facciate imparare strada facendo e gli manteniate questa convinzione nel tempo che voi non avete nulla a che vedere con quegli altri esseri umani che invece costituiscono un grave pericolo per la sua sopravvivenza, ecco perché è veramente molto importante che la efficacia del cane vada pari passo della affidabilità, io pesto sempre molto sull'affidabilità, questo corso che io farò il 25 di maggio sarà improntato praticamente tutto su quella che deve essere l'affidabilità del cane a guardia, poi sull'efficacia voi non avete chance, o vi affidate a qualcuno che vi dà un cane efficace, se no date pure avanti negli anni e nei decenni avere dei cani mediocre, ma il giorno che ne vorrete poi un'efficacia intanto dovete passare attraverso quella strada, potete anche vincere un ternalotto, insomma chiunque perché io oggi lavoro, voi lavorate, perché sappiamo che non è facile puntare tutto su un numero al casino e diventare milionari, neanche fare un gratta e vinci piuttosto che la lotteria, quello può capitare, ma noi regolarmente in modo razionale ci dobbiamo organizzare, quindi voi un cane efficace lo potete solo prendere da chi è in grado di darvi un cane efficace e normalmente chissà di avere un certo prodotto se lo fa pagare una certa cifra, però ammesso che voi a un certo punto abbiate il cane efficace è importantissimo che voi abbiate un cane che sia anche fidabile, perché se no come è avvenuto ad esempio qua per il mio Pumas che vi saluta tutti prima della fine, lui era un cane assolutamente efficace, ma non ha potuto continuare questa convivenza con i suoi proprietari, perché laggiù per i suoi proprietari ha detto a loro non era più affidabile, come mai adesso è venuto ed è qui ed è un cane di massima totale affidabilità, l'avete già visto tutto quello che io gli posso fare nonostante lui veda nell'uomo estraneo un pericolo, abbia visto nei suoi proprietari i primi due anni un pericolo, si è venuto qui che in teoria avrebbe dovuto avere queste pessime esperienze, si sia riconvinto nuovamente che invece gli osier umani non sono tutti uguali e che in questo caso ci sono io, siamo la famiglia, la Pumadillo un po' a loro che non siamo per niente un pericolo per la loro sopravvenza, anzi un grande vantaggio, tant'è che io sono qui che faccio il filmato, loro aspettano in modo diligente le roste di formaggio che ho in tasca, ne mi saltano addosso, ne fanno niente, perché abbiamo creato questo rapporto, ma questo si può solo fare tenendo sempre molto in considerazione l'affidabilità e voi per ottenere questa affidabilità dovete per forza imparare tutta una serie di procedimenti e di regole che non li potete ne improvvisare ed è molto difficile che li trovate scritti nei commenti dei social, anche se questa è la vostra come dire illusione, ma dovete invece rispettare delle regole ben precise, ok? Vi ringrazio molto per avermi ascoltato fino a questo punto, vi ricordo che entro il 15 finisce questo piccolo sconto che facciamo ancora con il videocorso, che questo videocorso non è solo molto importante per quello che imparerete, ma è anche indispensabile se volete poi partecipare per entrare un po' nel cuore del discorso a questa giornata che noi stiamo preparando per il 26 maggio, domenica 26 maggio qui a Peveragno dove si stanno già iscrivendo parecchie persone, sarà una delle solite giornate che quelli che partecipano a questi eventi poi dal giorno dopo incominciano a capire di cosa sto parlando e incominciano a iniziare questo percorso che li porta a avere un successo assicurato con i loro cani, sia sotto il profilo dell'efficacia e sia sotto il profilo della fidabilità, ok? Grazie ancora dell'ascolto e vi auguro a tutti buona giornata. Ciao ragazzi, a presto!